La nota è dura e tagliente come un coltello ben affilato. Dopo il no al progetto di ripavimentazione di piazza Torre di Berta con mattoncini rossi imposto dalla soprintendenza, l'amministrazione comunale ribadisce che sia arrivati a questo grazie ad un percorso pienamente condiviso con il sottosegretario Vittorio Sgarbi e fin qui tutto regolare, aggiungendo poi un monito verso il consigliere Chieri, non sia propri di meriti che non ha. Nella nota dopo aver ricordato brevemente come sia arrivati a scartare sia la ricopertura in pietra, sia quella in mattoncini rossi, ma si sia arrivati a prevedere il restauro della piazza che conservi più possibile l'aspetto attuale, l'amministrazione comunale compatta ricorda che il consigliere Laura Chieri e fratelli d'Italia non centrano nulla con le decisioni prese e condivise con il sottosegretario Sgarbi, ma alludono addirittura, leggiamo testualmente, ad un intervento dall'alto dei loro esponenti che avrebbero interferito con le valutazioni della soprintendenza. Questo, prosegue l'amministrazione comunale, se rispondesse a verità sarebbe gravissimo e non sarebbe circoscritto alla dialettica politica, ma come argomento da Procura della Repubblica.